Il mondo delle reti nei tumori rari oggi è abbastanza ricco a livello italiano, a livello europeo e a livello globale. Io penso che il mondo delle reti sia inevitabilmente un mondo fluido, in cui le varie reti si intersecano e queste reti possono essere molto diverse le une dalle altre, possono essere reti flessibili, non formalizzate, come possono essere reti più formalizzate. In Italia si sta creando la rete nazionale tumori rari come rete istituzionale, cioè governata dall'autorità sanitaria nazionale su tutti i tumori rari e che rappresenta un po' l'evoluzione di una rete professionale, la rete tumori rari, che noi creiamo circa vent'anni fa, appunto come rete non istituzionale, ma rete professionale, quindi rete appunto più fluida, che peraltro rimarrà anche nella nuova rete, cercando in qualche modo di organizzare il lavoro dei professionisti che metteranno i loro servizi a disposizione della nuova rete istituzionale. Però a livello europeo, dal 2017 esistono le reti europee di riferimento sulle malattie rare, compresi i tumori rari, compresi i tumori rari solidi dell'adulto, quindi compresi anche i desmoidi, e queste reti europee noi speriamo che crescano come reti di reti, cioè reti europee che in qualche modo si raccordano con le reti nazionali, ad esempio in Italia, la rete nazionale tumori rari. Noi coordiniamo l'istituto all'ambito dei sarcomi, di questa rete europea di riferimento sui tumori rari solidi dell'adulto, e quindi cerchiamo di fare in modo che questo si verifichi. Devo dire che la comunità dei sarcomi a livello globale è una comunità in rete da sempre, questo è molto importante per vari aspetti, naturalmente primariamente per la ricerca, ma particolarmente forse in tumori come i desmoidi, nei quali le politiche di trattamento sono cambiate negli ultimi anni, da un approccio molto chirurgico si è andati verso approcci sempre meno chirurgici, ci sono diversi farmaci, ci sono anche scelte che possono essere opinabili clinicamente, ma a maggior ragione è fondamentale che vi sia una collaborazione tra tutti i centri che nel mondo se ne occupano, perché questa collaborazione porta a una certa armonizzazione delle scelte cliniche quotidiane, che quindi a quel punto in tutto il mondo, in tutti gli ambulatori dei centri che si occupano di queste patologie verranno fatte su base quotidiana. Quindi anche questo lavoro in rete informale è molto importante, particolarmente in una patologia come i desmoidi.